Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la recensione di una macchina fotografica che Panasonic mi ha inviato, che è la LX100 Mark II. Questa macchina fotografica, come vedete, è sicuramente estremamente compatta, ma all'interno monta un sensore micro 4 terzi, come tutto il resto della line-up G di casa Panasonic, come per esempio la G90 con cui sto registrando ora adesso, e quindi è sì compatta, ma in realtà è estremamente potente. È una macchina che si posiziona nella posizione mid-high-end delle macchine fotografie compatte, proprio per la presenza del suo grande sensore, e secondo me è una macchina ottima per la street photography, cioè la fotografia di strada, e il turismo. La macchina ha un design da rangefinder retro, con i suoi controlli fisici, e va a richiamare le vecchie macchine fotografie a pellicola, come ad esempio le Leica o tante altre macchine rangefinder. Ha un corpo in metallo e plastiche comunque di alta qualità. La differenza con tutte le altre macchine micro 4 terzi è la presenza di una lente fissa, non rimovibile, che è una Leica 24-75mm f1.7-2.8, Quindi insomma, un'ottima estensione che va da un grand'angolo, perché comunque è 24mm, a un medio telefoto, e una lente sicuramente molto veloce. Sul retro abbiamo uno schermo LCD e un mirino viewfinder. L'LCD è uno schermo da 3 pollici e 1,24 megapixel, mentre il mirino è da 2,76 megapixel, quindi altissima risoluzione. Lo schermo LCD, l'unica pecca che vi posso dare è che non è ribaltabile, perché come vedete è fisso, quindi se per caso mi abbasso per fare una foto, ottengo la fotocamera alta, ho un po' di problemi perché non posso ribaltarlo e vedere meglio, e a volte si inceppa. Non lo so perché, ecco, nella selezione del punto di messa a fuoco non mi prende il dito, quindi devo risollevare il dito e rimetterlo, è probabilmente un problema di firmware. Come ho già detto, i controlli sono meccanici, come vedete. Quindi sulla lente abbiamo il controllo del diaframma, che possiamo impostare, che va da 1.7, come ho detto, a f16, ma possiamo anche impostarli in automatico, mentre sul top abbiamo la ghiera per il controllo dei tempi e il controllo dell'esposizione, oltre al controllo dello zoom, dato che comunque questa è una lente motorizzata a zoom, non è manuale, quindi ha un motorino. Per selezionare le varie modalità, devo dire all'inizio ero un po' confuso, perché ero abituato con le altre macchine panasoniche che ha la ghiera che ti permette di selezionare, non so, priorità diaframma, priorità tempi, video manuale, intelligent auto. Invece qui Panasonic ha ragionato in modo differente. Che succede? Che se vogliamo mettere, non so, priorità diaframma, quindi io vado a scegliere il diaframma e la macchina mi calcola automaticamente il tempo, che succede? Devo andare a selezionare sul controllo del tempi la modalità A. E a quel punto entra direttamente in modalità diaframma, perché con la ghiera sulla lente invece controllo il diaframma. Se invece voglio metterlo a tempi, metto sul diaframma in A e giro il controllo sul top dei tempi. Se imposto tutte e due su A, mi va in modalità P, program, e quindi fondamentalmente in modalità automatica. Comunque se vogliamo, ma io non so perché una persona che compra una macchina del genere dovrebbe farlo, possiamo anche metterlo in Intelligent Auto, quindi lui assolutamente sceglie tutti i parametri da solo cliccando il pulsante questo qui. A livello di controlli sulla lente troviamo anche due levette. Primo sul top, cosa curiosa devo dire, uno switch, una levetta che vi permette di selezionare l'aspect ratio dell'immagine, quindi possiamo lasciarla a 4 terzi come è il sensore, possiamo metterla a 1 a 1, quindi per esempio il formato di Instagram con un quadrato, possiamo metterla a 16 noni, possiamo metterlo a 3 e mezzi, e devo dire che è curiosa come cosa perché vi, dato la sua natura, secondo me prettamente da street photography, vi permette, non so, se vedete, volete incorniciare un qualcosa, mettete 1 a 1, cliccate la foto, e a quel punto vi ritrovate questo quadrato, oppure non so, volete accentuare il fatto di vedere un panorama, mettete in 16 noni, qui andrete a tagliare la parte sotto e la parte sopra che non vi interessa, per andare a proprio rendere più evidente la vostra idea che avete in quel momento nella mente della fotografia. Logicamente potreste farlo a posteriori con Photoshop o un altro programma di foto editing, comunque, però comunque vi porterebbe via tempo, e in questo modo invece voi avete già fatto questo tipo di operazione. Mentre sul lato abbiamo il controllo della modalità di messa a fuoco, abbiamo la modalità fuoco manuale, autofocus e autofocus macro, vi permette di scattare una foto a 3 cm di distanza e quindi creare, insomma, diciamo, delle simil macro, cosa interessante se per caso vi interessa questo tipo di fotografia. Come ho detto, per compensare invece l'esposizione abbiamo questo controllo sul top che vi permette di fare da più 3 a meno 3 e devo dire è molto comodo. Al posto del controllo della croce a quattro vie sul retro abbiamo la rotella, ma ormai quella sta diventando standard, è veramente presente in tutte le macchine Panasonic. Data la dimensione estremamente compatta della macchina fotografia, insomma, vedete un attimino, che renderete conto voi, che se la metto vicino a un iPhone, a un iPhone 6, vedete voi la dimensione, purtroppo non c'è il flash integrato. Il flash non c'è, ma è un accessorio di serie, naturalmente, all'interno della confezione, che voi potrete andare a collegare sul top della macchina fotografia come qualsiasi altro flash. Naturalmente è un po' una pecca, è un po' un compromesso, perché comunque fa la sua ottima funzione di flash, anzi, secondo me anche meglio che ha dato la sua maggiore distanza dalla lente al flash, che va a evitare e a ridurre il problema degli occhi rossi. Però, dall'altra parte, se per caso ve lo perdete o ve lo dimenticate di portarlo, a quel punto vi ritrovate una macchina senza flash. Non lo so, purtroppo qui c'era poco da fare, forse avrebbero potuto inserirlo, non lo so, dato che qui c'è lo schermino LCD, se il mirino fosse stato al centro avrebbero potuto metterlo qua. Purtroppo è così, ragazzi. Quindi mi raccomando di fare, se per caso avete questa macchina fotografica, di fare molta attenzione al flash, proprio per non perderlo. L'ergonomia della macchina fotografica, devo dire che è molto buona, è estremamente compatta, quindi naturalmente se avete mani molto grandi potreste forse avere un pochettino più di difficoltà a sentirvela molto presa sicura, ma comunque la presa è aiutata da questo accessorio per il grip sul retro che si posiziona sotto il pollice e vi permette di tenerla in modo saldo e però avendo tutti i controlli manuali magari vi potreste trovare un po' in difficoltà. Però è questione semplicemente un po' d'abitudine. Se passate da una macchina grande a questa qui, all'inizio un attimino vi ritroverete un po' confusi, però devo dire che dopo un po' ci si prende veramente mano. Quello che mi è piaciuto un po' di meno è la ghiera del controllo del diaframma. Vi spiego il motivo. Ha questi due supporti laterali per la presa che voi fondamentalmente, idealmente dovreste prendere così se tenete la macchina a fare e andare a selezionare il diaframma che volete. Il problema qual è? È che avendo solo due punti d'appoggio, se io per esempio la metto, non so, a F11, no? La metto così e poi la arriva ad apprendere e non mi trovo il punto di... quindi devo andare a stare, a girare la mano per trovare i punti oppure andare a prenderlo così con il rischio però di andare a toccare il selettore che sta prima del selettore del diaframma che è fondamentalmente quello per la messa a fuoco nel caso in cui sia in fuoco manuale oppure se per caso è in autofocus va a controllare lo zoom. Se voi vedete io sto zoomando, sto passando a 75 mm e quindi si muove molto, con molta facilità quindi di fare attenzione perché potreste andare inavvertitamente a spostare o la messa a fuoco oppure andare a toccare la lunghezza focale, insomma, se non lo volete insomma diventa un po' una rottura. Le funzionalità di base della macchina fotografica sono quelle presenti fondamentalmente in tutte le macchine di casa Panasonic quindi diciamo il punto di forza, la registrazione video 4K a 100 megabit e la registrazione full HD a 50-60 fotogrammi al secondo. Unico neo è che data la dimensione compatta della macchina Panasonic probabilmente avrà fatto dei test se si riesce a conto che se avesse messo il limite a 30 minuti la macchina tendeva a surriscaldarsi, diventare calda e quindi ha un po' sul limite a 15 minuti, mentre a 1080p potete registrare per 30. File 4K photos, quindi vi permette di andare a registrare un filmato fondamentalmente da 30 fotogrammi al secondo e poi andare a estrapolare un fotogramma 8 megapixel, molto comodo se per caso volete andare, dovete fare la foto di un oggetto e non siete sicuri, ma non so, un bambino che si muove, un animale, un insetto che si sta muovendo, volete fare la foto di un fulmine, che ne so, un qualcosa inaspettato, col 4K photo voi andate immediatamente a congelarlo e a prenderlo. Il post focus o focus stacking, che fondamentalmente agisce sempre utilizzando un filmato in 4K e vi permette di o andare a fare una foto e andare a selezionare poi a posteriori il punto di messa a fuoco quindi voi andate a selezionare tutte le messe a fuoco possibili davanti, dietro, in mezzo e poi andate, ok, voglio una foto con l'oggetto davanti a fuoco e tutto il resto sfocato oppure voglio una foto con solo l'oggetto in fondo a fuoco e tutto il resto sfocato oppure focus stacking, cioè lui va a unire tutti i punti di messa a fuoco in un'unica immagine totalmente a fuoco ottima per le foto macro, dato che sul macro il problema è proprio quello dato che avete una linea sottilissima di messa a fuoco con il focus stacking voi andate a unire tutti i punti di messa a fuoco e avete un'ottima immagine. la modalità stop motion, per fare, insomma, se volete fare dei corti stop motion potete farlo dato che vuole unire fotogramma per fotogramma lo scatto a raffica a 11 foto al secondo con un buffer in caso siano foto raw di 32 e in caso di foto jpeg più di 100 quindi voi potete mettere lì a fare le foto e e lui finché vuole, finché volete, lui continua a scattare altro benefit è sicuramente la lente grande angolare da 24 mm 1.7 che arriva fino a un 75 mm in medio telefoto e quindi permette di scattare foto panoramiche o per esempio in ambienti notturni ma con l'1.7 andate sicuramente a abbassare gli ISO oppure a fare ritratti a 75 mm. La batteria devo dire è estremamente buona perché nonostante la sua dimensione è compatta e comunque è una batteria piccolina anche perché la macchina è piccola e ci potevano mettere una batteria enorme scatta, vi permette di scattare 340 immagini con il display posteriore e 270 con il mirino uno potrebbe pensare che scattare con il mirino serva a risparmiare batteria in realtà no, è al contrario se volete risparmiare batteria utilizzate il display il sensore è un micro 4T si dà 17 megapixel senza filtro passabasso devo dire che si comporta in modo grecio e produce immagini notevolmente più nitide decisamente più nitide di un sensore con gli stessi megapixel ma con il filtro si comporta come un po' tutte le macchine micro 4T in modo eccellente fino a 1600 ISO fino a 1600 ISO la foto è fondamentalmente molto pulita arriva in modo egregio fino a 6400 devo dire arriva... naturalmente c'è il rumore però comunque ragazzi 6400 ISO sono tanti arriva fino a 25600 ma sinceramente andare sopra il 6400 lo unzio solo in caso di emergenza solo se dovete fotografare Bigfoot che vi è passato davanti e allora potete scattare anche a 25600 ma comunque sia a 12800 che a 25600 il rumore è veramente tanto e non è proprio il rumore ma è proprio la qualità dei colori che vedete proprio che si spengono però se per caso è necessario potete farlo allora la macchina non ha il sensore stabilizzato ma si affida totalmente alla stabilizzazione della lente come era una volta come era fino alla G7 le macchine non avevano sensore stabilizzato Panasonic intendo però la stabilizzazione è comunque un power ois quindi il top di stabilizzazione della lente di casa Panasonic quindi si comporta devo dire in modo egregio il sistema di autofocus della lente è molto buono soprattutto a 24 mm a 24 mm è istantaneo fondamentalmente passare da un oggetto vicino a un oggetto lontano a 75 mm è un pochettino più lento ma comunque estremamente buono devo dire la lente a 24 mm con il diaframma aperto a 1.7 ha una definizione buona al centro i lati sono un po' morbidi naturalmente come è normale che sia per una lente totalmente aperta ma se saliamo a f4 la definizione al centro migliora e anche quella ai lati a 5,6 la definizione è veramente ottima la nitidezza è buona e ottima sia al centro che ai lati a 75 mm devo dire che la situazione diventa paradossale perché il centro dell'immagine è più nitido a f2.8 che a f4 o a f5.6 questa non l'ho capita ma i lati invece aumentano di definizione diventano più nitide a f5.6 a livello di aberrazioni cromatiche la lente si comporta in modo ottimo devo dire molto molto buono naturalmente ho fatto foto direttamente a lampioni e lì si è presentate evidenti aberrazioni cromatiche ma altrimenti sono praticamente assenti non so se è merito della lente sicuramente la lente ma anche probabilmente a livello di processore che va a agire sulla fotografia la stabilizzazione power o is della lente è molto molto buona e vi permette di scattare anche a un quarto di secondo a mano libera e ottenere foto nitide questo vi permette di abbassare gli iso tenerli un po' più bassi e ottenere foto migliori più nitide LX100 Mark II è una macchina estremamente compatta molto piccola ma con all'interno un processore molto potente difatti il sensore come ho detto è un micro 8 terzi paragonabile in tutto e per tutto a quello presenti nelle sorelle maggiori solo per dimensione non per capacità il design e controlli gli conferiscono un aspetto vintage devo dire e va a fare presa sia magari per chi preferisce un aspetto più vintage quindi magari anche un hipster se vogliamo ma anche chi vuole magari controlli fisici e non andare a smanettare sui menu dato che comunque voi potete controllare diaframma tempi esposizione con delle ghiere e non con i menu però devo dire che l'assenza di uno schermo lcd ribaltabile l'avrebbero resa sicuramente più versatile e difatti questo assieme al limite di 15 minuti di registrazione 4k e l'assenza naturalmente di un jack di un'entrata per il microfono mi rende difficile consigliarla a un vlogger serio o a chi comunque vuole fare tanti video mentre la straconsiglio a chi è appassionato di street photography dato che passerete inosservati con questa macchinetta e un altro settore sicuramente con cui questa macchinetta è molto congeniale è quello del turismo perché la dimensione compatta vi permette di inserirla in una tasca non pensarci tirarla fuori quando volete fate la foto e siete sicuri di avere comunque una foto di alta qualità che non è neanche lontanamente paragonabile a quella che potete ottenere con un cellulare o una macchina fotografia compattina devo dire che tra le poche pecche della macchina è sicuramente l'assenza del flash integrato che è comunque un accessorio quindi con cui dovete stare estremamente attenti a non perdervelo il prezzo la posiziona all'interno del settore micro grotto terzi come mid level mi sento di consigliarne l'acquisto? Sì! soprattutto se siete interessati a una macchina di dimensioni compatte a una macchina con controlli manuali ma sicuramente con una grande qualità d'immagine dato il sensore altrimenti vi consiglio di passare a un qualcosa di diverso se non guarda a me dice Federico a me la dimensione non interessa non ho problemi ad avere una macchina più grande basta che insomma sia capace allora vi consiglierei di passare magari non so una G100 perché comunque è una macchina a lenti intercambiabili o una GX9 che è sempre un modello a lenti intercambiabili ma con mirino rangefinder simile a questa o magari anche una G80 perché no? Bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto se avete intenzione di comprare la macchina o volete maggiori informazioni su di essa cliccate nei link nel box di ulteriori informazioni troverete tutte le informazioni se per caso la comprate con il mio link vi fareste un piacere se non l'avete già fatto mi raccomando di cliccare sul pulsante iscriviti cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche sui miei prossimi video e niente ci vediamo alla prossima ragazzi saluti